Il direttore generale dell'ASL di Salerno ha firmato la delibera che rimette in funzione il centro unico di prenotazione. Come è evidenziato in questi giorni dalla nostra redazione e dall'ospicio IGL di Sapri, al CUP nessun operatore risponde al telefono, mentre una voce registrata invita a rivolgersi agli ospedali, che non sono organizzati per assolvere a questo servizio, oppure alle farmacie convenzionate, ma un cittadino non sa quali sono. Insomma, una baraonda. Giovedì scorso, alla luce delle relazioni ricevute dai responsabili aziendali del servizio in ordine allo stato di difficoltà della funzionalità del CUP e delle richieste di aggiornamento degli attuali standard operativi, i vertici dell'ASL, attraverso un'apposita delibera, hanno disposto l'incremento del servizio di gestione del call center di 200 ore settimanali alle condizioni economiche vigenti, ma solo per i prossimi sei mesi. Intanto va avanti il contenzioso giudiziario tra l'azienda sanitaria e la società che si occupa del CUP, una vicenda legata a fatti economici giunta davanti alla Corte di Cassazione che ha generato il grave disservizio agli utenti. Nonostante la delibera però, anche questa mattina a risponderci è stata la voce registrata. Benvenuto nel servizio di prenotazione telefonica CUP dell'azienda sanitaria di Salerno. Al momento tutti gli operatori sono occupati, la invito a telefonare più tardi. Vogliamo ipotizzare che la società ha bisogno di tempo per riorganizzare il servizio. Speriamo che l'operatore torni presto ad interagire con gli utenti e che questo suo ritorno non pesi troppo sulle casse pubbliche. Attenderemo fino ai primi giorni della prossima settimana, afferma il segretario dell'ospici GL Gerardo Triani, poi presenteremo denunce ai carabinieri per interruzione di pubblico servizio.